Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, siamo tornati a pesca nel nostro spot preferito, siamo pronti a lanciare la seconda canna, la prima l'abbiamo lanciata innescando due arenicole con due travi dello 0,22, due braccioli dello 0,22 in fluorcarbon, qui abbiamo sempre fluorcarbon 0,22 con un trancetto di seppia e il bracciolo superiore invece con un bel vermone americano, la vado a lanciare sugli 80 metri e vediamo se ci regala qualche emozione. Grazie Ragazzi abbiamo preso una marmoretta, eccola qui, adesso la slamiamo, sulla renicola l'abbiamo presa questa, la slamiamo e rilanciamo. Ho avuto una bella mangiata Questa è la canna innescata con la sirpia americana Grazie 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 un'ora e mezza, due tra poco infatti chiudiamo speriamo che magari l'ultima mezz'ora riusciamo a prendere qualcosa